Uno striscione per ricordare la vicenda dei due Marò ancora in attesa di processo in India. Questa mattina in Via Verdi, fratelli d'Italia capitanati da Marcello Taglialatela, il consigliere Marco Nonno e il capogruppo dell'opposizione in Consiglio Comunale Giovanni Lettieri hanno esposto dalle finestre del Consiglio Comunale in Via Verdi uno striscione su cui campeggiava la scritta Salviamo i nostri Marò. Ai nostri microfoni Gianni Lettieri e Marcello Taglialatela hanno voluto sottolineare l'importanza di questa iniziativa per non dimenticare i nostri due militari attualmente in India. Credo che ci sia su questo caso una dimenticanza generale e non va sottovalutato che questi ragazzi che cercano di difendere il nostro paese in giro per il mondo sono fermi in India e nessuno si preoccupa. Mentre il nostro sindaco si preoccupa di andare a chiedere il Gay Pride internazionale alla città di Napoli, si preoccupa dei centri sociali e più volte gli abbiamo chiesto, i nostri ragazzi gli hanno chiesto di fare qualche cosa per cercare di spingere l'opinione pubblica su questo argomento ma non ci sente, insomma invece ci sente su altri argomenti che non ci portano da nessuna parte. Sì, io ho ascoltato nei giorni scorsi il sindaco di Napoli che poneva l'accento sulla necessità che l'opinione pubblica fosse mobilitata per un problema che riguardava un ragazzo napoletano che era stato arrestato in Russia e mi melaviglia che il sindaco non si sia mai occupato della vicenda dei due militari italiani che sono da oltre un anno prigionieri in India quindi l'iniziativa di questa mattina è un'iniziativa che noi abbiamo immaginato proprio per ricordare l'opinione pubblica che ci sono due ragazzi italiani che sono stati arrestati per aver difeso altri italiani su delle navi e che sono ancora in attesa semplicemente di un processo.